Palpeggiata e molestata alla fermata dell'autobus da uno sconosciuto, questo quanto denunciato ai carabinieri da una ventenne, vicenda indubbiamente inquietante riportata su Facebook anche da Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, dove si sono consumati i fatti. L'episodio infatti si sarebbe verificato ieri alla pallina dei mezzi pubblici lungo la strada regionale 71 in direzione sud verso Montecchio. Qui l'uomo avrebbe palpeggiato la giovane che fortunatamente è riuscita a divincolarsi e a salire a bordo. Da sindaco ma anche da padre e soprattutto da uomo, scrive il sindaco sulla sua bacheca, provo grande disprezzo e con danno senza appello l'uomo non ancora identificato che ha avvicinato con una banale scusa una giovane tirandola per un braccio, palpeggiandola e molestandola. La ragazza ha già presentato denuncia ai carabinieri che hanno così dato avvio alle indagini per individuare il molestatore.